Bielorussia, contro il capitalismo e la dittatura, per la solidarietà internazionalista Pubblicato il 21 novembre 2020 la Commissione Relazioni delle Federazioni Anarchiche Internazionali, CRIFA, esprime il suo sostegno e la sua solidarietà internazionalista alle lotte del popolo bielorusso contro la dittatura di Alexander Lukashenko, un movimento di massa a cui partecipano i nostri compagni anarchici bielorussi. La situazione in Bielorussia si riferisce alla dittatura autocratica che dura da 26 anni e all'attuale crisi economica, sanitaria e dei servizi pubblici. Un'ondata di proteste ha riempito le piazze del paese per chiedere il ritiro del dittatore. In quanto anarchici, non siamo appassionati del dibattito sull'equità o meno delle ultime elezioni presidenziali. È semplicemente chiaro che le persone in Bielorussia dicono abbastanza e abbastanza, non vogliono più un governo che le faccia morire di fame, le picchi e le opprima. Siamo solidali con i prigionieri politici in Bielorussia e chiediamo il loro rilascio immediato. Chiediamo inoltre il reinserimento di tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro per aver preso parte a scioperi o proteste, e sollecitiamo l'immediata fine della repressione. Denunciamo la violenza e gli abusi delle politiche attuali e delle forze militari o paramilitari del regime, che detengono, picchiano e torturano arbitrariamente i loro oppositori politici. Chiediamo la caduta di un potere autoritario che è un triste residuo del totalitarismo dell'ex Unione Sovietica, che continua a servire come arma per la strategia militare della Russia di Putin che usa il suo paese vicino come punto d'appoggio militare. Tuttavia, nello stesso modo in cui ci opponiamo al militarismo russo in Bielorussia, ci opponiamo anche al militarismo delle forze atlantiche, NATO, nella Repubblica Baltica, insieme a tutti gli eserciti e a tutte le guerre che gli stati intraprendono contro il popolo. Allo stesso modo, non crediamo all'attuale retorica della libertà occidentale, né a un possibile ruolo di mediazione per l'Unione Europea. L'unico ruolo che ha lui è gestire gli interessi del capitalismo europeo ed è per questo che, come internazionalisti, ci opponiamo a questa istituzione. Al contrario, chiediamo la solidarietà internazionale tra tutti i lavoratori, i popoli oppressi e tutti i movimenti sociali impegnati, in Oriente e in Occidente, con il sindacalismo e i diritti dei lavoratori, con il diritto alla libertà. Abitativo, con mobilitazioni femministe LGBTQ, con la difesa del territorio e dell'ambiente contro gli speculatori, con la solidarietà e il mutuo soccorso delle persone, con l'occupazione degli spazi, con la produzione di cultura alternativa e con la difesa della società civile, con tutte le libertà, contro lo sfruttamento e l'autoritarismo, per citare solo alcuni dei nostri assi di intervento sociale preferiti. Solo la partecipazione diretta delle persone alle lotte dal basso può fare la differenza e produrre un movimento che va oltre la sostituzione di un vecchio governo con uno nuovo, più o meno corrotto, più o meno autoritario. Tra tutte le altre sfide che l'umanità deve affrontare, l'attuale pandemia ha confermato che lo Stato e il capitalismo non funzionano quando si tratta del bisogno di solidarietà. È l'intera società che deve cambiare verso l'uguaglianza e la libertà, e l'anarchismo è più che mai l'opzione che proponiamo per raggiungere questo obiettivo. Commissione Relazioni delle Federazioni Anarchiche Internazionali, IA FIFA